eccoci e bentornati sul mio canale nuovo video informativo giornaliero sul mondo di call of duty oggi torniamo a parlare di zombies e torniamo a parlare di call of duty black ops 4 come sempre prima di iniziare vi invito a lasciare un bel mi piace arriviamo a 500 per il prossimo video informativo avete visto come in questi giorni vi sto riportando tantissime informazioni in descrizioni su questa presunta quarta mappa zombies che sarà presentata o meglio sarà presente al lancio del titolo di treyarch tantissimi youtuber riportano questa informazione è uno dei più importanti del settore codename pizza che durante una live del 23 di maggio ha riportato delle informazioni importantissime su una mappa che a quanto pare non poteva ancora annunciare questa dovrebbe essere una mappa di ritorno quindi il ritorno di una mappa che già conosciamo molto simile a blood of the dead quindi il remake di mob of the dead quindi sembrerebbe che questa quarta mappa zombies non sarà una remastered ma un remake quindi sia la trama che il layout della mappa stessa verranno modificati rispetto alla versione originale la teoria più interessante è quella che vuole nuketown zombies quindi una mappa che non è mai stata presente all'interno della saga di black ops soltanto nella versione multiplayer ci sono due se non tre indizi che portano a pensare a questa cosa prima fra tutti un calendario ufficiale che è stato rilasciato prima di black ops 3 quest'articolo comprendeva la mappa zombies di nuketown che non si è mai vista la seconda relativa ai fumetti di zombies pubblicata da dark horse e come potrete vedere la grafica e le schermate di caricamento nella modalità di gioco call of duty zombies sono tutte rimasterizzate in zombies chronicles ad eccezione di nuketown e la terza una strana coincidenza negli ultimi giorni glitch and queen ha riportato una fan art relativa a un concept dedicata a questa presunta mappa nuketown zombies sarebbe veramente molto interessante trovare questa mappa all'interno del gioco perché quasi sicuramente potrebbe essere abbinata alla versione digital deluxe del gioco se ben vi ricordate nuketown arrivò su black ops 2 con il pacchetto hard and head oppure la digital deluxe per poter scaricare la mappa ovviamente potrebbe essere un incentivo importantissimo per comprare un'edizione speciale del gioco qui sotto nei commenti fatemi sapere che cosa ne pensate ovviamente torneremo sull'argomento nei prossimi giorni con tutte le ultime indiscrezioni e notizie ufficiali che arriveranno direttamente dalle 3 2018 che seguiremo in diretta sul mio canale youtube e noi ci vediamo con tanti nuovi video